Dove posso trovare i pavimenti? Alla MWD. L'arredo bagno? Alla MWD. La rubinetteria? Certo, MWD. I sanitari? Ovvio, MWD. Le nuove pompe di calore? Una parola, MWD. E una piscina per il relax? Sempre MWD. L'illuminazione? Ma certo, alla MWD. Ma allora andiamo alla MWD e ci troverai tutto il bello per la tua casa. Accidenti, che buio! Fai luce! Cosa possiamo accendere? Fai luce anche tu! Ecco la luce! C'è luce anche qui! Anche qui c'è luce! Anche qui c'è la luce! Noi abbiamo illuminato il nostro mondo. Tu puoi illuminare la tua casa. Vieni alla MWD! Malore a bordo del traghetto veloce Mega Express 3. Evacuazione medica d'urgenza operata dalla Guardia Costiera di Portoferraio. Polemiche con botte risposte dopo il Consiglio Comunale di Portoferraio. Zini e Merlini attaccano sulla mancata nomina delle commissioni, risponde Barbetti. Diego Pizzo, il campione italiano di mini-enduro categoria 125. Sette anni di lavoro e volontà per raggiungere il traguardo e alzare la Coppa Tricolore. Brevi dall'Elba, aggressioni personale sanitario, regione e solo promesse. Intervento di Landi, provincia di Livorno e comune di Portoferraio, in ricognizione alle scuole superiori. Golf Acquabona 2.0, il 13 agosto inizia il nuovo ciclo. Marina di Campo, 7 agosto, festa del patrono Sanga e Taro. Nel pomeriggio di giovedì 1 agosto la Guardia Costiera di Portoferraio è intervenuta per una richiesta di soccorso dalla nave passeggeri Mega Express 3 della Sardinia Ferris, proveniente da Olbia e diretta a Livorno. La richiesta riguardava l'evacuazione medica di un turista italiano di 20 anni che necessitava di urgente ospedalizzazione quando nel traghetto si trovava a circa 10 miglia da Marciana Marina. La moto vedetta Sarci P892 della Guardia Costiera ha effettuato le procedure di evacuazione medica del giovane in prossimità dello scoglietto di Portoferraio, dove nel frattempo era stata dirottata la nave per agevolare le operazioni di soccorso. Oltre al ragazzo sono stati trasbordati la madre e il medico di bordo della Mega Express 3. Giunti in porto il personale militare con l'assistenza dei paramedici della Confraternita della Misericordia hanno sbarcato il ragazzo e lo hanno affidato alle cure del medico del 118 allertato dalla sala operativa della Guardia Costiera. Dopo aver stabilizzato il paziente l'autoambulanza si è diretta verso l'ospedale civile di Portoferraio per la necessaria ospedalizzazione. Monta la polemica dopo l'ultimo consiglio comunale di Portoferraio che si è svolto lo scorso 31 luglio. La discussione nasce anche per la mancata nomina delle commissioni consigliarie e per l'intenzione dell'amministrazione di voler modificare lo statuto comunale. Ad aprire le danze è stato l'ex sindaco Angelo Zini che in una nota ha sottolineato che è legittimo voler modificare lo statuto ma fino all'approvazione di queste modifiche resta in vigore quanto previsto dal regolamento in attuazione dello statuto vigente. Le commissioni consigliari del comune di Portoferraio sono previste dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale in attuazione dell'articolo 14 dello statuto comunale il quale ne prevede la possibilità a Gionge Zini. Le commissioni comunali sono uno strumento di ausilio e di stimolo ai lavori del consiglio comunale oltre a rappresentare una forma importante di garanzia di partecipazione dei consiglieri di minoranza. Prendiamo atto, conclude l'ex sindaco, che questa amministrazione dopo avere fortemente annunciato di voler sostenere le partecipazioni dei cittadini decide di non nominare le commissioni consigliari previste all'interno del consiglio comunale che è l'organo rappresentativo per eccellenza dei cittadini. Fa eco anche Marcella Merlini con un secco chi mal comincia, riferendosi proprio al tema in questione. I buoni propositi, dice la consigliera di minoranza, spariscono e con essi sparisce la possibilità di coinvolgere istituzionalmente nella gestione del comune sia i propri eletti che i consiglieri di minoranza che, ricordiamo a Nocentini, continua la Merlini, rappresentano la metà più uno degli elettori portoferraiesi. Commissione è un vulnus alla democrazia e un inaccettabile atto di arroganza che priva la stessa amministrazione Nocentini del contributo che può venire, oltre che dall'insieme dei propri eletti, da un'opposizione costruttiva. Alle minoranze risponde Ruggero Barbetti, assessore esterno del comune di Porto Serraio, una minoranza di dilettanti allo sbaraglio che, se staranno attenti in questi cinque anni, avranno molto da imparare. Ora si capisce il disastro degli ultimi cinque anni di amministrazione Zini, attacca l'assessore. Questi non conoscono nemmeno l'ABC di cosa significa governare un comune. Durante il Consiglio abbiamo detto che, sì, dovrà modificare lo statuto per adeguarlo alle leggi che si sono succedute nel tempo, dato che la sua approvazione risale, addirittura al 2007, ma non abbiamo mai detto che vogliamo modificare l'articolo 14, che è perfetto così. Dimenticavo, conclude Barbetti, in 24 anni che sono stato sindaco di Capoliveri, non è stata mai istituita una commissione consigliare, cosa che avviene tutt'oggi. Insomma, una rovente discussione dopo il Consiglio Comunale, in un rovente luglio e agosto, e siamo certi che non finirà qui. Dopo sette anni di lavoro, sacrificio e buona volontà, Diego Pizzò, il rider del Bano classe 2008, è riuscito a conquistare il suo primo campionato italiano, mini-enduro categoria 125, in sella alla sua moto Beta 125, due tempi. Il pilota isolano si trovava a pari punti con il secondo in classifica e ha vinto l'ultima gara della competizione a Fabriano nelle Marche, riuscendo così ad alzare la Coppa Tricolore. Una soddisfazione immensa anche per gli appassionati delle due ruote elbane, in particolar modo per il motoclub Isola d'Elba che lo ha cresciuto umanamente e tecnicamente. Questa stagione è andata molto bene, ho vinto il campionato italiano mini-enduro della classe 125, è stata davvero una bella stagione, sono partito molto bene, poi a metà stagione ho avuto una brutta caduta in un altro campionato dove mi sono fratturato il polso, però sono riuscito a rimontare in sella molto presto, sono riuscito a difendermi la posizione in campionato e rimanere sempre primo e poi all'ultima tappa di gara, insomma, sono riuscito a vincere tutte e due le giornate conquistando il titolo di campione italiano mini-enduro e anche l'assoluta. Ringrazio il motoclub Madden Action Sport Team, il team Racing Gualdani e soprattutto il mio allenatore Fabio Perini che mi ha sempre seguito in tutte le gare. Poi soprattutto la mia famiglia che ormai dopo sette anni siamo riusciti insomma a vincere questo titolo. Una stagione agonistica ardua e complessa che ha messo a dura prova le qualità di guida del pilota novellino urbano, tesserato con il motoclub fiorentino Muster. L'accaduta è avvenuta nel cross test nella gara a Ceva in Piemonte nel mese di giugno e è stata per Diego un punto di svolta nel finale di stagione. Questa stagione mi ha insegnato molto a livello mentale perché nonostante questa caduta 20 giorni dopo avevo una gara molto importante e non mi sono mai reso, comunque ho continuato a fare sempre fisioterapia per il polso. Poi sono andata alla gara, ho fatto il primo giorno secondo, il secondo giorno quinto e comunque è andata molto bene e mi sono portato avanti in campionato. Il suo intento per la prossima stagione è partecipare al campionato toscano italiano under 23 assoluti in Italia e continuare l'allenamento come i veri professionisti. Nel prossimo anno farò il campionato italiano under 23 senior nella categoria cadetti, 125, sicuramente sarà molto più tosta, molto più combattuta e che si passa a livello superiore. Faccio un altro campionato, sarà sicuramente l'assoluto in Italia. Sicuramente in quest'inverno dovrò lavorare molto per provare a vincere anche il titolo italiano il prossimo anno. Nei prossimi mesi dovrò affrontare due trofei delle regioni, faccio parte della regione toscana, poi dovrò fare anche l'ultima gara di campionato under 23 senior dove sono terzo in campionato e poi l'ultima di campionato regionale toscano. Parole al vento quelle dell'assessore Bezzini sul rischio delle aggressioni al personale sanitario. Il 23 luglio un'infermiera del 118 in servizio all'elbe è stata colpita da un calcio e da un uomo durante il soccorso. Non una parola di solidarietà da parte della ASREN e della regione, è ancora più grave, il centrosinistra in consiglio regionale ha rifiutato di discutere una mia mozione che chiedeva all'automatica costituzione di parte civile dell'azienda e un rafforzamento delle misure per tutelare i medici e gli infermieri. Questi i fatti, a loro le vuote promesse. Così il consigliere regionale della Lega Marco Landi, commentando le dichiarazioni rese dall'assessore regionale della salute Simone Bezzini, circa le iniziative della regione per contrastare il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario. Nella mattinata di giovedì 1 agosto si è svolta a Portoferraio una ricognizione delle condizioni delle scuole secondarie in vista del prossimo anno scolastico. Presente è la provincia di Livorno con la sua presidente Sandra Scarpellini, il vicepresidente Pietro Caputo e lo staff tecnico e il comune di Portoferraio con il sindaco Tiziano Nocentini, il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Claudio De Santi e il consigliere comunale Roberto Manzi. Le due delegazioni hanno visitato i plessi scolastici dell'Istituto Cerboni e dell'Isis Foresi alla presenza dei rispettivi dirigenti scolastici, professoressa Lorella Di Biaggio e Alessandra Rando. La visita si è svolta in un clima informale e collaborativo, allo stesso tempo evidenziando le criticità da affrontare in prospettiva della riapertura di settembre e pianificando gli interventi necessari. Nei prossimi giorni verrà resa nota la consistenza degli interventi programmati. Comincia ufficialmente la sera di martedì 13 agosto alle ore 19 il nuovo ciclo del Golf Acquabona con la prima edizione della Festa del Golf. La serata prevede un aperitivo di benvenuto, una guigliata di carne e divertente attività e notturna per tutti i golfisti, sportivi, curiosi o persone di ogni età che hanno voglia di avvicinarsi al mondo del golf. Uno sport all'insegna del benessere e del contatto con la natura. Il nuovo consiglio direttivo nelle figure del neopresidente Pietro Vallati e del vicepresidente Federico Vallati, insieme ai loro soci, sono lieti di invitare tutti gli elbani, turisti e amici per trascorrere una piacevole serata insieme. La festa del Golf parte delle iniziative del piano di rilancio del Golf Treba Acquabona che intende coinvolgere tutta la comunità locale, aprendo le porte ad un pubblico sempre più ampio e rendendo la struttura fruibile a tutti. Inizierà alle 11 del 7 agosto con la Santa Messa ufficiata dal Vescovo Monsignor Carlo Ciattini, la tradizionale celebrazione dedicata al patrono di Marina di Campo, San Gaetano. Alle 21, dopo la Santa Messa celebrata nella chiesa parrocchiale, ci sarà la processione a terra accompagnata dalla filarmonica ilbana Giuseppe Pietri, seguita da quella molto spettacolare a mare nel golfo di Marina di Campo. A mezzanotte ci sarà lo spettacolo pirotecnico musicale e per tutta la sera, per le vie del paese, l'animazione musicale con la cartoon band. Grazie a tutti.